let's go benvenuti lupetti in questo nuovo episodio di spacchettamenti di carte pokemon nello scorso episodio abbiamo spacchettato la team di lucario v che è qua ve la faccio vedere trovando anche una bellissima carta che è questa beh adesso va bene beh non adesso ma oggi si anche adesso oggi andiamo aprire l'ultima team per ora che quella di mio v alti tre pokemon v sono pronti a scendere in campo c'è la fantastica lo di lucario v antica potere di new v e il pugno verenoso di shlombro di garar v nelle scatole la collezione forza v del gioco di carte collezionabili pokemon ciascuna di quest di queste imperdibili scatole da collezione contiene un pokemon v della potenza straordinaria che con la loro sua che con la sua forza e il suo potere non sbaglierà un colpo e ti porterà al periodo a un funerato prossima rotta del gioco di carte collezionabili pokemon in questa scatola collezione troverai la carta orografica di un pokemon v 4 busti di espansione del gioco di carte collezionabili pokemon una carta codice del gioco di carte collezionabili collezionabili pokemon online beh come sempre andiamo ad aprirci a nostra team anche perché devo dire che dopo questa beh per adesso da me è così se poi vi ricaricherò più avanti ci saranno poi altri spacchettamenti più avanti non so ho solo più altri due spacchettamenti in più tutti gli altri poi sì c'ho i magazine che sarà una serie a parte magazine pokemon ma per adesso posso più altri due spacchettamenti di carte quindi carta di mio molto bella e codice bene riteriamo anche l'ultima team perfetto la mettiamo qua mettiamo le carte la plastica la buttiamo un attimo a terra poi la butto via qua abbiamo due voltaggi sforgolanti un fagore ribelle sempre una sintonia mentale cominciamo sempre con sintonia mentale mi sembra di aver sempre cominciato la sintonia mentale però non mi ricordo quindi spero che fissa così ma è sempre dentro delle carte una è il codice perfetto cominciamo con riolu meditite shromish slacot e slacot un fesant molto bello talon frame energia magia sì però questo tipo magia carra costa gran pozione un bellissimo birarel e finiamo con un saradint seconda bustina fagore ribelle codice codice scovovette mister mind di gara un catarpy un bar botch un tranquille un cg lip un energia e elettro falix mascherine un falfec di galar e finiamo con una pepita voltaggio e volta si voltaggio sforgolante abbiamo ben due bustine quindi non riesco a farle uscire cavolo ok perfetto codice un bellissimo schiddo un darmanitan di garvi stupendo mettiamo la parte energia magia medaglia dell'eroe energia protettiva uno zeb strica e un britt si deve essere ottenuto poco ma con le due evoluzioni ultimo pacchetto che sempre voltaggio sforgolante vediamo cosa riusciamo a trovare oggi tranne insieme diciamo al al vi che abbiamo già trovato prima che è veramente un bel una bella sorpresa non pensavo neanche di trovarne uno perché non escono ok codice e vediamo cosa abbiamo trovato un pochiena un piki pack un nincada arrocuda bellezza e un amparos v un energia magia un zeptrica un road red uno shobad e finiamo con un rock roof beh ragazzi che devo dire abbiamo trovato queste due bellissime carte e che altro spero che il video vi sia piaciuto se siete mi piace condiviate iscrivetevi al canale e accendete la campanella delle notifiche noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao